Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio accanto al grande mosaico della Madonna delle Grazie dove Padre Pio spesso si ritagliava qui un momento di preghiera, accadeva quasi prima di andare a recitare l'Angelus nel coro appunto per i tanti fedeli che giungevano qui a San Giovanni Rotondo. Oggi qui per leggervi come avete in sovraimpressione una testimonianza, un'email, anche se la nostra amica Lorella ci ha scritto una vera e propria lettera, poi l'ha fotografata con la sua, l'ha scansionata con il suo telefono e l'ha inserita come allegato. Ci scrive dalla Romagna, dalla provincia di Bologna lei racconta di un fatto che l'ha colpita fortemente quando era bambina, dice aveva forse nove o dieci anni tra il 67 e il 68 quando ascoltai il racconto del papà Carlo di alcune nostre amiche quasi coetane, papà di sei figli, che esprimeva il rammarico e la sorpresa che anche un po' di indignazione al riguardo del fatto che padre Pio lo cacciò dal confessionale. Lei racconta che insieme alla sua famiglia ha spesso pensato a cosa di tanto terribile raccontasse a padre Pio il papà Carlo tanto di essere cacciato dal confessionale e poi allo stesso tempo lei ci dice, ecco si fa una domanda, ma se dovesse capitare a me un'esperienza simile, ne uscirei con tanta vergogna, ricordo vari pensieri tra cui anche la domanda se io avessi potuto meritare una tale reazione. Inoltre poi Lorella ci racconta che attraverso il marito Antonino gli ha raccontato quello che accadde a un certo dottor Normanno Normanni, un medico di base che quando aveva circa 25-26 anni fu l'accompagnatore in qualità di guidatore ufficiale, così racconta Lorella, di alcuni sacerdoti tra cui anche il compianto Don Giuseppe Marangoni, anche lui figlio spirituale di padre Pio. E a quell'epoca il viaggio dalla Romagna a San Giovanni Rotondo era lungo e faticoso. Arrivati a San Giovanni Rotondo il dottor Normanno ricordava una certa poca considerazione di padre Pio che immaginare probabilmente non lo avesse individuato, partecipe nel gruppo dei sacerdoti. Poi però dopo qualche giorno era arrivato il momento di partire, ecco il dottor Normanno pensava che padre Pio non si fosse accorto di lui ma invece nel momento in cui stavano partendo fu proprio padre Pio ad accompagnarli quindi dal giardino, è come se lui si avvicinasse all'auto e il dottore che era alla guida aveva il finestrino abbassato all'interno dell'auto c'erano tutti gli altri sacerdoti, gli mette una mano sul petto e gli dice mi raccomando dottore, la salute di don Giuseppe. Ma il dottor Normanni rispose a padre Pio ma io sono un medico alle prime armi, cioè mi sono appena laureato e padre Pio continuò, mi raccomando la salute di don Giuseppe. Dopo qualche anno, lui sempre ricordava questa raccomandazione, don Giuseppe si trovava in ospedale. Fu chiamato e avvisato che ormai non c'era più nulla da fare. Il dottor Normanno non aveva mai dimenticato quell'incontro con padre Pio, si ricò immediatamente all'ospedale per parlare con il primario il quale con modi determinati, benché non ci fosse diagnosi chiara e assicurò al dottore che non vi era più nulla da fare. Quindi il dottor Normanno decise di accurire personalmente il parroco don Giuseppe. Per sei lunghi mesi, tre volte al giorno, si recava a nutrire don Giuseppe, ad imboccarlo e a somministrare alcune medicine. Pian piano don Giuseppe recuperò la salute e visse ancora molti altri anni. E Don Giuseppe, proprio per ringraziarlo, fece dono al dottor Normanno di una vera e propria reliquia che a sua volta aveva ricevuto personalmente da padre Pio, un piccolo quadrento raffigurante, proprio la Madonna delle Grazie, Santa Maria delle Grazie, qui di San Giovanni Rotondo, con una dedica scritta di pugno proprio da padre Pio. e lui aveva tenuto nel suo cuore quella sua raccomandazione e l'aveva portata fino alla fine avanti.